Si è spento nella notte tra domenica e lunedì Clemente Serva, il padre della movida cilentana, nel 1972 con il fratello Giancarlo di Denizio alla leggendaria storia del ciclope, trasformando la grotta di Marina di Camerota nella discoteca più famosa del sud Italia. Il professore Serva, così lo chiamavano gli amici perché era un geologo, è morto all'ospedale San Luca, dove era stato trasferito in gravi condizioni. Una lunga malattia lo ha portato lentamente a spegnersi. Aveva 77 anni. Oggi alle 10 a Palinuro e funerali. Inevitabile, per quanti lo hanno conosciuto, ricordare i formidabili anni in cui, grazie all'intuito di un giovane professore, la costa del Cilento divenne meta di flussi turistici prevalentemente giovanili, provenienti da tutta Italia. Erano gli anni d'oro, a Palinuro c'era il club mediterraneo. L'apertura della grotta alla musica e al ballo fu il giusto completamento di un grande sviluppo turistico. Agli inizi degli anni settante, fratelli Serva riuscirono ad avere dal demanio la gestione della grotta. Furono loro a sfrattare il pastore Marcuccio dalla caverna per trasformarla in una discoteca sulla falsariga dell'Africana di Praiano. Una lunga trafila burocratica per avere tutte le concessioni, alla fine riuscirono ad inaugurare la discoteca. Una scommessa vinta in partenza, la magia della grotta, il turismo di qualità, che all'epoca affollava le località balneari di Camerote e Palinuro, contribuirono a far nascere il mito della discoteca Il Ciclope. Negli anni il progetto è diventato sempre più importante. Ogni anno 20.000 persone assistevano alla notte del mito. Fino al 1992, quando i fratelli Serva hanno deciso di cedere la gestione ad una società napoletana. Altri tempi, altra musica, altri turisti. Il professore Serva è stato per lungo tempo anche presidente dell'Associazione Albergatori di Palinuro. Un grande esempio per tutti noi, lo ricorda Felice Merola, imprenditore turistico. Una persona mite e per bene, il professore è stato un precursore. La sua intuizione ha reso famosa la costa del Cilento si dagli anni 70. La notte del mito è stato il primo grande esempio di evento legato allo sviluppo turistico. Oggi la discoteca Il Ciclope è chiusa. Nella grotta è tornato il silenzio dopo la tragedia che due anni fa è costata la vita ad un ragazzo di 24 anni. Ma questa è un'altra storia.